Andiamo a tutti, vado a controllare, sono scaricato tutti i paganti, grazie vecchio mio, sono così felice che tu sia ancora vivo. Dopo un lungo restauro riapre il Teatro degli Animosi di Carrara con il Giardino dei Ciliegi di Checov. È un bel traguardo raggiunto, soprattutto la possibilità di dare alla città degli spazi di cultura che si merita. Carrara è una città creativa dell'UNESCO e in quanto tale ha bisogno di spazi, ha bisogno di cultura, ha bisogno di luoghi di ritrovo. Si apre così un cartellone frutto della collaborazione fra l'amministrazione comunale e la fondazione Toscana Spettacolo, fortemente incentrata sulla scena contemporanea. L'intento di questa rassegna è quella di completare con ben nove appuntamenti che si dipanano fino ad aprile tra teatro classico rivisitato, teatro contemporaneo, arti performative, danza, musica e anche circo e teatro di figura di altissimo livello è quello di completare con questi nove appuntamenti l'offerta culturale e artistica della città.